Amici di Enjoy Television, siamo tornati il 22 di agosto al G-Party, al Frozen, con noi Giusy Consoli e una delle festeggiate, la Fellon. Buonasera ragazzi! Ciao, ciao a tutti, ciao! Beh, auguri Fellon! Grazie! Allora ragazzi, raccontatemi un po' questa serata come si svolgerà il tema della serata, che so che ogni serata cambia la coreografia, cambia il tema, quindi, Giusy? Questa sera siamo sirene, siamo delle sirene, l'allestimento, tutto quanto, vedrete, ci sarà una bella serata. Chi è che cura l'immagine del Frozen a livello di tema, a livello di costumi? Come risponde lei? Fellon! E lo staff, praticamente siamo gli amici e i fans accaniti di Giusy Consoli, che facciamo gli allestimenti e le coreografie a noi, veniamo al pomeriggio, prepariamo tutto noi e tutto familiare. Quanto è difficile organizzare una serata come questa, ragazzi, perché il pubblico viene, vede la serata, sapete benissimo che il pubblico tante volte pensa che il nostro lavoro nel mondo della notte non sia così, no? E invece, arrivi e c'è tutto, ah sì, e invece cosa c'è dietro, ragazze? Chi me lo dice di voi due? C'è tanto lavoro, però non ci pesa, perché ci piace, perché ci piace. Ci piace molto, soprattutto siamo amiche, ci divertiamo ad allestimento, baracchi, vanno in baracchi. Machines can't do the work Abbiamo conosciuto una Fallon in una veste nuova, no? La veste della vocalist. Fallon, ti sei buttata in questa impresa? Perché ti hanno scelto e te l'han chiesto, ti sei buttata tu? Com'è successo? Allora, diciamo che io faccio già degli spettacoli che presento una mia amica nelle esibizioni di Drak e Pertrima. La Giuse mi è venuta a vedere, gli sono piaciuta, io sono stata molto onorata. Mi sono conoscevo? Cioè non è che... già sapevo come sei. Beh, mi sono stata onorata di essere una tua dipendente. Dipendente, non sei una mia dipendente. Lo sai che è un onore, un piacere essere una tua compagna di battaglia. Sei una mia amica. Appunto, brava, una battaglia. Battaglia, tutto è battaglia solo. Il G-Party è una festa, adesso avete iniziato da qualche mese qui al Frozen, è una festa che si vuole fermare a Modena o per la stagione 2011. Cosa vuole? Cosa succede? Abbiamo delle richieste, ci hanno già fatto delle richieste. Quindi spostare il... Ora no, dobbiamo ancora dire, dobbiamo ancora perfezionarci. Però le richieste ci sono, la gente ci chiede informazioni, chiede dove siamo, dove ci può trovare, dove ci può seguire, la gente ci ama, ci segue, è bello, è bello. Sicuramente saremo in giro poi molto presto per tutta Italia. Amici di Enjoy Television, dal G-Party al Frozen con noi, Claudia, buonasera. Ciao, Cri. Allora, Claudia, intanzitutto come stai, com'è questa serata del G-Party? Allora, sto benissimo. La serata è bella, stasera abbiamo fatto veramente pienone. Io voglio farti una domanda. Allora, tante persone che conoscono la Giusi anche per quello che è stata, per quella situazione a cui è appartenuta prima, mi chiedono, ma cos'è praticamente la stessa cosa? No. Claudia, rispondi tu, così una volta per tutte. No, la situazione vecchia è una situazione vecchia, il G-Party è il G-Party, è una situazione nuova, un po' più fresca, gente diversa, meno pubblico più piccolo e un po' di pubblico un po' più grande. È una situazione completamente diversa, non ci piace né copiare né rifare le stesse cose. Quindi, tutto nuovo? Tutto nuovo, come vedrete c'è anche il marchio nuovo, c'è la mutandina con scritto G-Party Giusi Consoli. Esatto, infatti la Giusi diceva, trovate questo G, cos'è questo G? Noi abbiamo messo il G-Party come punto G, come il punto da cercare o venirci a trovare. Per tutti gli amici di Enjoy Television che vogliono informazioni sul G-Party, come prenotare? Perché ricordiamo che qui si può venire anche a cena, quindi pre-serata con la cena, cosa devono fare, chi devono chiamare, dove devono andare? Allora, praticamente basta che vadano sui siti di Facebook, c'è il sito Giusi Valentina Consoli o Giusi Consoli DJ, o altrimenti il mio sito, Rapicano Claudia, e dopo lì troveranno tutti i contatti, i numeri telefonici e il modo per contattarci. Chiamate Claudia, vi dice tutto, vi prenota il tavolo, venite qui e vi divertite. Ciao, Enjoy! Ciao!